Di nuovo insieme con 56 News, buonasera, in primo piano ci sono le primarie, domenica 7 aprile si voterà dalle 8 alle 20 per la scelta del candidato sindaco di centro-sinistra, sono sei i contendenti, potranno votare anche i sedicenni, sono stati allestiti oltre 260 gazebo in tutta la città, sentiamo la scheda di Manuela Baldi. Ultime ore dunque di campagna elettorale per i sei candidati, Manuela Baldi ha seguito per noi l'europarlamentare Davide Sassoli, prima al centro anziani Capasso in zona Bravetta, poi in uno storico mercato di piazza San Giovanni di Dio, vediamo. E tra pochi minuti vi proporremo l'altro servizio sull'altro candidato Ignazio Marino che ha da poco terminato un incontro con i cittadini, ma intanto vediamo con Irene Bartolomeo che cosa sanno i romani di queste primarie del centro-sinistra e soprattutto qual è il loro orientamento, vediamo. Ultime ore dunque dicevamo di campagna elettorale per i sei candidati, Ignazio Marino strizza l'occhio alla sinistra, oggi ha fatto un'iniziativa pubblica insieme a SEL ed esulta per l'appoggio dell'ex garante della privacy Stefano Rodotà. Sentiamo Francesco Albanese. Io credo che questo